Oggi, per sbaglio nel cambiare, mi sono vista come uno schifo come ho nascosto. Normalmente in alberghi come questo, in bagno non accendono pure la luce. Faccio tutto al nulla, anche la doccia, per non dovermi vedere. Per passarmi il rossetto sulle labbra, uso lo sprecchietto, seduta sul bordo del letto, alla luce del giorno. Sta per traviere il suo compagno, per la prima volta negli undici anni in cui sta con lui. La donna sulla trettina con il suo compagno avevano formato coppia fissa fin dai tempi della scuola. Abitano insieme, non hanno figli non ancora, abitano in un bell'appartamento di quattro stanze. Stanno bene, eppure lei si domanda se negli undici anni che sono passati non le sia per caso sfuggito qualcosa per la vita. Si domanda se non avrebbe dovuto avere figli prima. Se sono i figli quelli che... Monnesio... Non ha mai ingannato il compagno e suppone che nemmeno lui l'abbia fatto. Quando lei e il suo compagno rimangono separati per più giorni, cominciano a scriversi lettere. E allora lei pensa di amarlo. L'uomo vicino alla quale è ora sentito sul volto del letto si è spogliato più lentamente di lei. L'è staccato senza toccarlo. È un collega di un'altra città che ha incontrato oggi durante una riunione annuale per la quarta volta in quattro anni. Senza che nel frattempo questo abbia comportato alcun altro contatto fra loro. Non si sente particolarmente attratta da lui, ma già in occasione del loro primo incontro aveva pensato che se avesse un giorno tradito il suo compagno, lo avrebbe fatto con un uomo come quello. È nervosa, insicura. Sta pensando di essersi spogliata troppo in fretta. Io non ho mai fatto una cosa così. Voglio dire da quando sto con lui. Voglio dire sto con lui da molti tempi, da 11 anni. Però io una cosa così non l'ho mai fatto. Sono entrambi sulla cinquantina. Sono entrambi con l'uleto. E lei è più pesante di lui. Sono appena rientrati da un cipimento, una cena di affari. E lei è più pesante di lui.